ciao a tutti e bentornati sul canale oggi continua l'appuntamento con il decluttering quindi andremo a spulciare ancora nei cassetti della mia make up collection per vedere quali prodotti tenere oppure andare a cestinare quindi non mi dilungo e vi lascio subito al video ciao allora ragazze passiamo ad un altro cassetto e questo è il cassetto dove ci sono tutte le matite occhi matitoni e eyeliner quindi andremo a fare un bel decluttering di questo cassetto e si trova praticamente anche come posizione sopra il mascara che abbiamo già declatterato comunque non mi perdo in chiacchiere e andiamo appunto a spulciare un po' diciamo in questo cassetto qui volevo anche informarvi che io off camera poi avevo già realizzato così come è successo per il mascara un decluttering quindi probabilmente non ci saranno tantissime cose da eliminare però mai dire mai allora partiamo da questo contenitore e in questo contenitore appunto sono presenti tutte le matite sia nere che colorate diciamo in utilizzo comunque mi sono munita sempre dei cestinetti dove andare appoggiare tutti i prodotti allora comunque qui abbiamo questa matita contorno occhi che appartiene a una vecchia collezione kiko che era la asian touch praticamente la numero 03 che se non ricordo male vabbè questa era per il ventesimo anno di kiko e questa appunto nel colore nero ecco qui e deve essere temperata comunque è ancora super super nera e va bene la la tengo allora altra matita io vado un po random ragazze sono queste due matite qui che sono due matite della stessa linea dell'avono della color trend e nel particolar modo questa è una è una casual nel colore parpol rose quindi comunque è un colore appunto violaceo ecco qui è un po secchina devo temperare per vedere se ancora va bene altrimenti la gestino mentre quest'altra qui è nella tonalità sempre palpol rose quindi anche in questo caso è un po secchina vabbè vedrò un attimino se questa è utilizzabile tengo questa e poi magari vado a declatterare questa qui lo vediamo magari dopo e vi faccio sapere poi c'è questa matita qui dell'astra che è una astra professional è il pensile è una matita occhi nella tonalità penso che sia 06 quindi questo marrone qui non so se ancora ci sono queste matite dell'astra comunque questa scrive perfettamente quindi comunque la tengo perché mi piace la matita marrone mi piace poi dell'essence ho questa matita qui che sicuramente è una matita abbastanza vecchiotta ed è la casual pencil nella tonalità pretin fucsia non so neanche più se esistono queste matite comunque diciamo che di scrivere scrive però non so ragazze è un bel po che non la vado a pescare sembra un po secchina però vediamo non so quanti ne ho di questo colore se dovesse averne altre anche di altre diciamo aziende magari cestino questa la tengo un attimo in forse cominciamo malissimo questo declattering perché so che alla fine non andrò a declatterare nulla allora poi sempre della color trend però magari di un'altra linea perché queste uscivano sempre in edizioni per san valentino anche se sembrano simili però hanno delle scritte diverse questa è questa qui è la il colore vediamo se c'è è lilla quindi vabbè manca la matita la mina ragazza quindi la devo la devo temperare e vediamo l'appoggio un attimo qui poi c'è questa qui che invece nel color pink quindi questa è rosa e vediamo un attimino che mi sembra anche simile a quella di di essence quindi vediamo una volta temperata questa qui vediamo se sono simile magari mi tengo questa perché la vedo anche più scrivente comunque aspettiamo un attimino e vediamo dopo poi c'è questa di neve cosmetics che ricevetti come omaggio in un ordine appartengono appunto alla linea pastello matita occhi nella tonalità shoker questo è appunto è un bel viola scrive benissimo è vero che le pastello sono prodotti naturali però non ha la mina è perfetta cioè non ha subito nessuna alterazione quindi questa la tengo bene allora poi ho questa qui di maybelline che è la master drama non so neanche più se esista in commercio questa qui nella tonalità vediamo se c'è un colore ed è la dark brown ecco qui manca praticamente la punta devo devo temperarla per vedere sono quelle mine praticamente in gel non vorrei che fosse troppo secca perché mi sembra che si sia staccata anche dalle pareti vabbè questa la butto quindi questa ci salita ecco qui almeno il primo prodotto è declatterato allora poi ho questa matita qui di quelle non temperabile di quelle a mina retraibile ed è del livre rocher ed è della stilo regard waterproof nella tonalità vediamo se esiste una tonalità no turquoise questo color turchese allora mi sembra abbastanza buona bellissimo questo colore quindi questa resta con me bella 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 poi un'altra neve un altro pastello di neve questa nel colore vediamo rosa coid rosa questa qui e quindi questa è praticamente un roso gold eccola qua fantastica molto molto bella quindi rimane con me poi ho quest'altra qui di mesauda che è la forever call nella tonalità 203 c'è un grigio scuro ecco quindi bella non resta con me allora poi c'è questa matita della mia che è una matita occhi nella tonalità black ma queste matite non hanno mai scritto cioè sembra che scrive sulla mano però come potete vedere non ha un tratto ben definito però poi sugli occhi non scrive una cippa lippa quindi ho cercato di portarla sempre avanti perché mi dispiaceva anche perché vedete questa è in tonza ne ho utilizzate altre ma questa qui è in tonza non lo so magari siccome sicuramente ce ne saranno altro questa me la trattengo un attimino vediamo e vado a declatterare gli altri che so per certo che non scrivevano allora sempre di neve cosmetics la pastello questa è quella bianca praticamente e rimane con me perché è perfetta altra neve questa nella tonalità brown anche questa rimane con me perché l'ho utilizzata proprio l'altro giorno quindi fantastica morbidissima è perfetta ed è un bronzo è praticamente un marrone quasi bronzato ha dei riflessi quasi bronzati veramente bellissima quindi anche questa rimane con me sempre neve questa è nella tonalità kaki quindi questa è una sorta di verde bello un verde quasi metallizzato bellissimo io amo le matite neve sono fantastiche mi sa che devo creare una sezione solo per le matite neve allora poi ho questa matita di una vecchissimissimissima collezione della color trend considerate che color trend non c'è neanche più queste poi risalgono proprio a tantissimo tempo fa e aveva la doppia mina quindi da una parte credo che questa fosse un bianco e quest'altra invece era un nero non riesco neanche più a leggere ah no questa era un nude questa era un brown quindi guardate continuo ancora a scrivere ragazze e questa qui è un nude quindi un marroncino chiaro no vabbè ma questa la tengo ragazze bella mi piace anche perché non credo di avere un marroncino così chiaro per gli occhi tranne questa che era metallizzata però questa qui me la tengo la provo e vedo spero che non mi faccia nessuna reazione poi ho questo mozzicone di matita nera della color trend però ormai andiamo è andata idem per questo questa era di forse era una matita Wicon guardate e ancora la punta c'è però è inutile tenerla poi qui ho una mini taglia di una collezione sempre limitata della Kiko forse trovata dentro il calendario dell'avvento adesso non vorrei dirmi una pesteria e questa appunto è una matita occhi 0,2 queste sono quelle in gel però come potete vedere si è seccata quindi questa ci saluta allora questa è un'altra matita della mia che come dicevamo prima però siccome questa è stata utilizzata è per certo che non va bene quindi questa viene cestinata direttamente poi ho questa matita della Essence trovata questa in un calendario dell'avvento sicuramente perché sto vedendo che ha questo questa drama tutta natalizia è una matita bianca e appunto rimane con me questa ce la teniamo poi poi ho questa matita blu della Studios Makeup è la numero 08 queste sono veramente vecchissime come matite però ragazza vabbè si è spezzata la punta però guardate che punta di blu niente prova a temperarla vediamo se quando si tempera non si sgretola altrimenti la cestino anzi no la cestino direttamente ragazza la butto basta ho deciso poi ho questa matita qui della Max Factor in questo color nude praticamente questa è una matita contorno occhi è un call pencil ma che io utilizzo per la rima interna degli occhi proprio perché evito di utilizzare quella bianca perché mi sembra troppo sparaflesciata e quindi avendo questa sorta di color nude rosato mi piace molto appunto per la rima interna per dare per aprire ecco dare quell'effetto di occhio più più vispo e comunque questa me la tengo è una validissima matita poi altra matita della Studios Makeup è questa in questo color verde militare questa a differenza di quella blu mi sembra ottenuta meglio ed è la numero 5 siccome al momento oltre a questa qui cachi però che era metallizzata non ne ho la tengo e poi vediamo poi vabbè questo rientra nei matitoni vediamo dopo allora poi c'è questa matita qui della Jolie è una matita occhi la numero 34 in questo color lilla ecco è un lilla perlato e niente questa al momento la tengo anche perché non ce ne sono uguali poi ho questa matita della Kiko che appartiene a una vecchia collezione in edizione limitata che la color definisce forse questa doveva essere della Rebel Romantic se non ricordo male comunque queste sono quelle con la mina ritraibile in questo color verde qui mamma mia ragazze è pazzesca no questa la tengo è bellissima bella 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 senza se e senza ma questa appartiene sempre alla collezione essence di queste vecchie matite questa è una top me è una casual pencil un po' secchina però top alla fine è l'unica vabbè al momento la tengo e poi vediamo io con i decluttering proprio non sono per niente brava ragazze proprio sono non riesco a staccarmi dai prodotti poi c'è questa matita qui della Peggy Sage in questo color vaniglia appunto per la rima interna degli occhi un po' più vedete la differenza questa è quasi giallognola mentre questa era più su nude non vi nego che questa qui nude della Max Factor l'ho utilizzata a volte anche come contorno labbra pre-matita proprio per evitare le sbavature della matita quando avevo delle matite molto morbida vabbè comunque questa della Peggy Sage la tengo poi ho questa qui della Caraja la Celebrity numero 11 è una matita non transfer resistente eyeliner waterproof eccetera eccetera in questo color praticamente oro antico ma più che oro antico sembra quasi un platino ma bellissima questa non va da nessuna parte rimane con me poi c'è quest'altra qui sempre di Yves Rocher in questo color grigio nero non so perché no ragazze e questa mi sembra che sia uguale a quella di prima ed è praticamente una sorta di grigio scuro quindi comunque può essere quasi quasi utilizzata come se fosse una matita nera quindi questa anche questa me la tengo anche perché hanno una bellissima scrivenza sono molto morbida poi c'è questa qui sempre Yves Rocher che è una matita dice 3 in 1 è una matita 3 in 1 perché è un col può essere utilizzata come contorno occhi e anche come ombretto quindi sicuramente è una matita sfumabile molto morbida guardate quindi con un pennellino si può essere sfumata e niente quindi siccome vedete aveva ancora la plastichina l'avrò aperta forse da poco quindi me la tengo poi questa sempre di una vecchia collezione della color trend questa è praticamente un color verde pistacchio guardate questa è simile a quella della neve solo che non è metallizzata quindi questo colore è qui però al momento la tengo poi vediamo poi ho questo mozzicone di matita della della mark quindi queste erano tipo le super shock quelle in gel però ormai è andata poi c'è sempre questa della color trend bianca non la tengo poi mozzicone di questa sempre color trend in questo color nero addio poi abbiamo questa matita puro bio nella tonalità è una cajal matita occhi vediamo se c'è il colore di questa no vabbè è comunque questa sorta di sembra quasi un tube vediamo lo metto qua può sembrare simile a questa ma questa guardate è più scuro rispetto questa qui è comunque nuova l'ho ricevuta se non ricordo male in una beauty box poi c'è questa qui sempre color trend in questo color azzurro direi un azzurro dice sempre un azzurro turchese allora la accostiamo a quella di chico allora questa è secchissima quindi faccio fatica veramente a sguacciarla quindi questa la salutiamo altra matita sempre in mini taglia di chico probabilmente sempre trovate in una sorta di calendario dell'avvento ed è questa qui in questo color champagne diciamo che è un po' secchina però tutto sommato potrebbe andare vediamo la provo e vediamo va bene questa è la terra poi 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 ragazze c'è questa che è una glimmer stick di avon la plastic black ecco cioè praticamente questa era terminata ne era rimasta giusto un piccolo mozzicone però essendo finita la buttiamo poi questa qui della no uva la numero 31 è in questo color marrone ma come potete vedere praticamente la mina si è completamente staccata e quindi vuol dire che ci può salutare ciao ciao peccato perché era un bel marrone quello poi c'è questa della kiko della linea smart pencil però come potete vedere completamente sigillata e questa in questo color viola quindi comunque la tendo perché è nuova poi altra sempre di kiko sempre della linea smart è in questo color qui marroncino dorato ecco volevo accostarla magari a questo è molto simile però guardate ha una tonalità diversa non so se vedete la camera e questa ha una punta più di rosato questa aveva una punta più di platino mentre questa rimane più sul marrone ecco tup quindi anche questa rimane con me questa per intenderci è la 03 poi 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 c'è questa matita qui che è la 01 ed è una matita contorno occhi di questa marca qui che ho ricevuto in una collaborazione tanto tempo fa guardate che comunque scrive diciamo che è abbastanza morbida quindi ancora buona e la tengo ed è anche super lunga quindi la tengo magari come scorta allora poi alta matita sempre bianca della color trend però come potete vedere questa è andata a scrisolare quindi questa ci saluta tanto c'ho gli altre poi c'è questa qui della sumita comunque questa qui l'ho trovata in una beauty box quindi è una matita di quelle diciamo in gel però come potete vedere si è staccata anche tutta la mina cioè non è fuoriuscita però è staccata dai bordi e non disegna neanche più quindi questa ci saluta peccata proprio utilizzata forse una o due volte altro mozzicone di matita questa appunto era della wicon queste matite della wicon mi piacciono molto ragazzi cioè guardate che nero no questa la tengo anche se ne è rimasta pochissimo magari la finisco e poi la butto però guardate che nero no vabbè la tengo poi 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 allora poi qui abbiamo tre matite di Kiko sempre della linea smart abbiamo la 16 la 4 e la 14 allora la 16 è questa tonalità qui che credo che sia un nero e quindi rimane con me poi la 4 praticamente sono nuove questa è questa sorta di marrone eccola qui quindi anche questa è nuova resta con me mentre questa sembra quasi più bronzata che è la 14 anche questa resta con me quindi sono nuove ragazze quindi me le tengo poi 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 c'è un pettino di qualche matita per le sopracciglia che non so che ci faccia qui e poi qui ho questa matita che è una matita labbra quindi non so perché questa matita rossa mozzicone di matita labbra e qui comunque non dovrebbe stare in questo contenitore e niente ragazzi allora per quanto riguarda la matita della mia comunque sia pur non attimino che cosa devo fare di questa anche se credo che l'andrò a cestinare e per quanto riguarda questa lilla dell'avon siccome come potete vedere non ne ho altre quindi era l'unica questa comunque me la tengo allora pulisco poi questo cestinetto e lo vado a rimettere a posto allora ragazzi ho recuperato dalla toalettina praticamente questa glimmer stick avon nella tonalità plastic black questa ce l'ho in utilizzo e poi anche quest'altra qui l'ultima che ho comprato da cost quindi se avete visto l'ultimo video degli acquisti fatti da cost appunto questa è la matita numero 51 quella nera ed è la full color e i pencil quindi queste due matite io ce le ho sulla postazione trucco perché le utilizzo e anche queste quindi restano con me continuiamo con questo contenitore qui dove all'interno ci sono tutti i matituni contorno occhi e non so se c'è qualcosa di sparso anche in quest'altro comunque qui vediamo appunto cosa c'è allora partiamo con i prodotti matituni allora qui ho questa la jumbo i pencil di nyx questa è la 604 milk quella latte famosissima perché praticamente questa si utilizza anche come base per gli ombretti per far enfatizzare appunto gli ombretti per renderli più vibranti c'è un periodo che c'è stato un periodo praticamente che si vedeva tantissimo adesso sinceramente un po' meno però io ce l'ho ed è praticamente quasi nuova e me la tengo allora poi questo prodotto qui della essence che è la snow jam sinceramente io non ricordo questa da quanto tempo io ce l'abbia comunque quelle sono quelle che hanno la doppia mina da un lato è questo color verde acquamarina verde turchese e da quest'altra parte invece ha questa sorta di vedete argento lillaceo però al momento la tengo e vediamo anche se ha tanto tempo poi ho questa della Peggy Sage che praticamente è un ombretto in stilo waterproof nella tonalità espresso guardate che bella che è e quindi anche questa la tengo molto molto bella poi c'è questa dell'astra che è una jumbo eyeshadow creamy questa ce l'ho da diverso tempo però guardate è buona per fare magari come base per gli smoky quindi comunque la tengo poi ne ho una della yamamai beauty che probabilmente non esiste neanche più credo perché poi non ho più visto nei punti yamamai il make up vi dico la verità però questa comunque la tengo per una sorta di ricordo perché la comprai in vacanza e quindi sinceramente la voglio tenere appunto per questo molto carina anche il packaging che ricorda un po' il pizzo appunto di yamamai e comunque in questo bellissimo blu viola scusatemi in questo bellissimo color viola quindi comunque scrivi ancora e la tengo poi questa qui della h&m è questo verde militare praticamente metallizzato guardate che è questa matita fantastica veramente molto molto bella e quindi lo tengo mi piace io amo il verde come colore di ombretto poi ne ho una vecchissima di kiko che è questa da una parte c'è il marrone ecco bronzato dall'altro c'è questa sorta di giallo dorato ed è appunto la creamy touch nella tonalità 03 da questa parte qui il marrone è questo ancora scrivono ragazze fantastico e poi c'è questa sorta di giallo dorato che scrive ancora bellissimo anche questa per quanto riguarda è abbastanza vecchia però la tengo proprio per ricordo perché con questa matita truccai anche la mia amica quando si sposò e quindi sinceramente è più una questione veramente affettiva utilizzai oltre a tutti i prodotti anche questa quindi la tengo per questo motivo poi c'è questo matitone della mark che è la big color shadow stick in questo color rosa flipping out pink che non c'è neanche più però giusto per dirvi guardate che bella che è quindi come base ombretto veramente fantastico è un rosa molto molto chiaro e quindi cremoso fantastico appunto come base per un ombretto anche shimmer essendo opaco questo va benissimo anzi più che opaco è un satinato questo qui poi c'è quest'altra della Peggy Sage che è sempre una jumbo matita diciamo per gli occhi ed è questo colore bellissimo sberluccicoso ed è proprio uno champagnino chiaro chiaro e un dorato molto chiaro ecco molto bella la tengo chissà se c'è si chiama mimosa poi ho questa qui della Layla che è la Sheeny Shady Eyeshadow la numero 02 non so neanche se esistono più queste matite comunque questa ecco questa qui sembra secca però ragazzi è da temperare quindi non ce n'è ed è in questo colore rosa comunque la tengo perché la tempero e vediamo poi c'è questo stilo questo stick che è uno stilo 3 in 1 di Avon della linea Glow ed è questa sorta qui di questo colore quasi aranciato però vi devo dire la verità non mi piace molto quasi quasi questo lo cestino quindi questa la butto perché ce l'ho anche da tanto tempo allora altra matitona della Peggy Sage è questo blu elettrico fantastico ragazze temperare ma è questo blu elettrico comunque lo tengo perché è l'unico blu elettrico che ho proprio di questa tonalità vibrante e quindi veramente molto molto bella questo è color laser dice appunto è fantastico poi si è tolto il tappo eccola qui questa qui è un matitone invece della Kiko ed è la 01 è una matita ombretto ultra brillante e in questo color rosa ecco ricorda un po' quello che abbiamo visto prima però questo è più carne questo è più brillante quindi anche questo lo tengo poi ne ho uno veramente vecchio della essence che è la Big Bright Ace ed è un praticamente una sorta di highlighter una cosa del genere appunto e ha delle sfumature molto particolari questa matita cioè questa praticamente sembra gialla però poi in base alla luce che viene dalla parte della luce che viene colpita ha dei riflessi sul dorato poi ha dei micro glitterini quindi su questa sono abbastanza indecisa diciamo che ha come base una base neutra però poi dei glitterini tutti sul rosa purtroppo non rende molto in camera però è molto carina quindi siccome è l'unico colore di questo genere vediamo la tengo poi ho questa Eymatic che praticamente è una penna in polvere della Catrice trovate in un calendario dell'avvento che vi faccio vedere ragazze con me ed è questa sorta di ombretto praticamente io l'ho messa qui ma è un ombretto in polvere dove all'interno del tappo c'è appunto l'ombretto e quindi questa è la tonalità 040 bellissimo appunto è un ombretto diciamo in polvere con un effetto molto cremoso e quindi me lo tengo altra matitone scusatemi è questa qui della marca nella tonalità slate ed è una sorta di taupe e anche questo anche se diciamo Marco non c'è più è praticamente nuovo e quindi me la tengo poi taupe sono un passepartout per quasi tutti i tipi di make up poi ho questo stilo della color trend sempre purple star ed è questo matitone qui appunto in stilo mamma mia che bello guardate veramente bello quindi questo resta con me poi 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 ho questo il magic stick una cosa del genere della della bell di questa marca bell probabilmente ricevuto in una beauty box non lo so e comunque questa sorta appunto di stick color menta ragazze scusate ero fuori camera e questo qui siccome è l'unico colore di questo genere la tengo quindi questa me la tengo vabbè poi altro colore della kiko sempre doppia matitone doppio e da una parte abbiamo il matitone nero però come potete vedere praticamente si è seccato tutto e da questa parte invece c'è questo rosa bello questo rosa è bello però è un po' secchino praticamente nuovo ragazzi non è mai stato utilizzato mi dispiace non so che fare di questo vabbè lo tengo lo provo a temperare vediamo un attimino però non lo so al momento la tengo però non credo che appunto lo terrò poi ho questo qui della color trend che è un ombretto eyeliner ecco cremoso questa sorta di giallo ecco qui e quindi anche questo lo tengo perché è nuovo poi ho questo sempre della yamamai anche questo comprato come l'altro però questo nella tonalità nera appunto guardate come scrive ragazzi sono fantastici questi matitoni continuano a scrivere e anche questo tengo per lo stesso discorso di quello di prima poi sempre color trend questa addirittura è un'edizione limitata quindi molto bellina già per questo dovrò ottenerlo anche perché color trend non c'è più giusto per collezionismo ed è questo stilo color menta e niente anche questo rimane con me perché anche come colore è unico questo verdino qui sembra quasi un verde menta vediamo se c'è come colore si infatti è menta templation quindi molto molto chiaro poi sempre un ombretto in polvere della catrice è in questo color violettino lilla diciamo quasi un top direi anche questo vediamo un attimino com'è lo accosto all'altro ecco si è un top però con forse non si vede comunque ha delle sfumature violace all'interno quindi anche questo lo tengo perché i make up con le sfumature sul color top vanno bene un po' per tutte le quasi tutte le tipologie di occhio e poi c'è quest'altra matita color trend quest'altro stilo color trend questo rosa molto molto carino ed è un rosa brillante guardate metallizzato molto bello anche questo resta con me poi ho questa qui della Kiko che è un double dark apparteneva a una vecchia collezione anche questa uscita in edizione limitata forse per per dei giochi vabbè non ricordo comunque da questa parte qui ha questo blu quindi è una matita guardate questo blu ottaneo probabilmente e poi dall'altro lato invece ha questo colore qui sullo champagne guardate che bello no vabbè anche questa rimane con me poi questa della power stay di Avon nella tonalità bronze sugar sì e questo bronzo qui appunto questo stilo guardate ombretto in stilo molto molto bello appunto bronzo e rimane con me anche perché c'è il cartoncino lo tengo nel cartoncino giusto per distinguerlo che è un po' più nuovo poi ne ho uno della Kiko sempre questo della Lazy's Better quindi di una vecchissima collezione uscita per i vent'anni di Kiko la tonalità la tonalità è la 02 ed è la ombre purple praticamente è un ombretto in stick quelli famosi della Kiko però questo apparteneva a una collezione in edizione limitata ed è questo rosa antico proprio molto molto bello simile a questo ecco forse questo potrei eliminarlo e tenere questo qui allora questo lo tengo senz'altro vado a recuperare poi il diop che ho nella mia nel cestino lì e vediamo comunque questo lo tengo poi c'è questo qui che è un matitone duo della Deborah Milano allora ragazze io questo matitone l'ho amato se qualcuno di voi sa dove reperirlo ancora se esiste io non lo so non ho guardato neanche su internet vi prego ditemelo questo è un due in uno e i pencil ma più che per i colori entrambi i colori più che altro per questo verde scusatemi non si vedeva niente comunque più che per tutti i due i colori per questo verde metallizzato che è veramente ragazzi è pazzesco cioè io lo amo cioè questo io lo metto anche sulla rima inferiore degli occhi e mi fa esaltare appunto il verde che io ho negli occhi paradossalmente non bisognerebbe accostare colore su colore ma è bellissimo ma poi tutti e due sono veramente molto molto belli quindi mi piacerebbe trovare anche da solo questo e sarei la persona più felice del mondo cioè è bellissimo io lo amo e comunque appunto questa con me poi ho due eyeliner ecco in stick di bottega verde non so neanche più se esistano questi comunque questo è questa sorta di viola metallizzato e quindi lo tengo e questo invece è in questo color bronzo quindi anche questi li tengo e altro cestino terminato non so Grazie a tutti